Aquila, Montevarchi e Baldaccio Bruni hanno la possibilità di arricchire ancora di più il bottino stagionale. Dopo aver messo rispettivamente in bacheca la vittoria del campionato di eccellenza e la Coppa Italia, adesso Montevarchi e Baldaccio hanno cerchiato in rosso la data del 10 maggio. Alle 18 prenderà il via il triangolare che assegnerà la supercoppa di eccellenza intitolata Giovanni Giandonati. Il trofeo sarà assegnato in base ai risultati del triangolare che vedrà l'Aquila Montevarchi, vincitrice del girone B di eccellenza, contro la Baldaccio Bruni, vincitrice della Coppa e alla formazione che conquisterà il primo posto nel gruppo A. Come spiegato dal bollettino del Comitato regionale toscana della LND, la manifestazione si svolgerà in gara unica nella quale si incontreranno le tre squadre con tempi di 45 minuti ciascuno. Alle società partecipanti verrà assegnato un buon acquisto in materiale sportivo dal valore di 1000 euro. Aquila Montevarchi e Baldaccio attendono quindi di conoscere il nome della sfidante del girone A, visto che a quattro giornate da termine il Serravezza è primo con 59 punti, seguito da Roselve con 54, Atletico Piombino con 53 punti.